Tesoro, prendi a tua madre una quattro formaggi grande da Tony. Non ci sono soldi qui? Pagala tu allora, ne stai facendo tanti. Facciamolo. Ti piacerebbe se ci trasferissimo in California soltanto noi due, ok? È una promessa allora. Buone notizie, ho un altro lavoro. Questo tizio ha almeno 300.000 dollari. Ma è cieco. È un po' immorale derubare un cieco, non credi? Se è cieco non vuol dire che è un santo, fratello. Sarà una passeggiata. La storia è che una ragazza ha investito sua figlia. La figlia è morta e quella famiglia ricca l'ha riempito di soldi. È un ex militare solitario. Tutto a posto. È andato, fa la bella addormentata. Ragazzi, se i soldi sono in casa devono essere lì. Hai portato una pistola! Ok, chi c'è lì? Ok, amico, rilassati. Resta dove sei. Non sfidami! Papà, sono io. Ho fatto un casino bestiale. No, 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 no. Adesso vedete quello che vedo io? Alex! ! Ollo fa! Non sfidami! Non sfidami! Non sfidami! Sonia è morta! Non sfidami! Grazie.